Amici d'Italica, anche se oggigiorno gli smartphones ci permettono di avere molte informazioni a portata di mano, ogni tanto possiamo avere bisogno di rivolgerci a qualcuno in carne e ossa. E in questo video ti insegnerò alcune domande che ti saranno molto utili in Italia. Per prima cosa ricordati sempre di avvicinarti alle persone nel modo giusto e con modo giusto intendo dire buongiorno, scusi, mi sa dire e concludere con la parolina magica, grazie. Ma anche la scelta della persona a cui ti rivolgi è importante. Non chiedete informazioni a chi sta lavorando oppure a qualcuno che va di fretta. Voi direte che banalità ma che consigli sono questi. Invece, secondo me, queste cose non vanno date per scontate. Molte volte le persone si lamentano e dicono che gli europei sono rozzi, ma spesso si tratta semplicemente di non essere troppo invadenti nell'approcciarli. Perciò, occhio! Allora, dopo che avrai detto buongiorno, mi scusi, puoi fare la tua domanda. Mi sa dire come faccio per andare? Come posso arrivare? Oppure, se vuoi sapere dove si trova un monumento, un posto specifico o anche un negozio, puoi chiedere come faccio per andare? Come posso arrivare al supermercato, alla stazione, alla farmacia, alla lavanderia più vicino, più vicina? E per concludere, se la selfie che vuoi farti non inquadra bene te e il Colosseo, per esempio, puoi chiedere a qualcuno di farti una foto. Basta dire, può farmi una foto, per favore? Questo è quanto, ci vediamo nel prossimo video e ricordati di fare il download dell'ebook gratuito, frasi utiis del dia a dia, in italiano. Nos vemos amanhã!